La parte più interessante del mio lavoro è quella di lavorare insieme con il mio team per creare delle soluzioni ogni giorno migliori per supportare al meglio l'attività degli agricoltori e supportare al meglio le macchine che Acco vende sul mercato. Io svolgo questo lavoro con passione e cerco di trasmettere questa passione al team che lavora con me. È molto importante avere passione nel mondo dell'after sales, dei ricambi in particolare, per poter risolvere i problemi del quotidiano dei nostri clienti e poter essere sempre in grado di fornire una soluzione alle loro necessità. Il mio nome è Roberto Montessori, sono il National After Sales Commercial Manager per Acco in Italia e la mia attività si svolge insieme a un team di tre area manager e insieme ci occupiamo di sviluppare le attività di vendita e di assistenza per quanto riguarda i ricambi. Il nostro obiettivo è garantire la massima soddisfazione dei clienti finali che sono gli agricoltori. Ho provato direttamente l'esperienza di restaurare vecchie motociclette e ho trovato veramente molto importante il supporto avuto nell'acquistare ricambi originali anche fuori del mondo dell'agricoltura. Una parte del mio lavoro è quella di accompagnare i concessionari nel trasmettere il messaggio ai clienti finali che l'utilizzo di ricambi originali è per loro una garanzia di tranquillità e gli far risparmiare tempo e denaro. La nostra attività si svolge con l'obiettivo di raggiungere l'eccellenza nel servizio di post vendita e supporto fornito ai nostri clienti finali riducendo i tempi di fermo macchina in quanto sono clienti che comprano macchinari di alta gamma e quindi prodotti premium.